Uno, due, due, tre, sette di spade. Invidia da parte di terzi. Invidia a me, di terzi. Ascorretto. Uno, due, tre, quattro di coppe. Vittoria oppure morte in battaglia. Morte in battaglia. Ascorretto. Ma io lo cancello. Poi, Beppa, basta, smettiamoli, non credo a queste sciocchezze. Gioco non terminato, destino sdegnato. Uno, due, un dama di spade, una donna. Una donna. È scritto. Bella, ma perfida, non ti ama. Per forza, è la maestra, è chiaro. Intrighi, fatture, malefici. Non c'è dubbio, è lei, la maestra. Quella ha indicato per non farmi promuovere. Ha maledetto la mia carriera. Ma un giorno o l'altro le farò vedere chi è Antonio Laguaglia. Con Laguaglia non si scherza. Vedi, a me mi ci vorrebbe... Un personaggio influente. Si capisce, una spintarella, una raccomandazione. Ma chi? Re di coppe. Re di coppe, ma come fai dire? Un uomo importante entrerà nella tua vita. Avanti!